Domani in Contemporanea Nazionale si terrà la settima edizione di Io non Rischio, la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile. I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Ragusa incontreranno i cittadini presso Piazza Giambattista Odierna dalle 15.30 e per tutta la serata. I rischi di cui si parlerà in piazza sono quelli connessi al terremoto e al maremoto. La piazza prescelta è anche un'area d'attesa, ovvero un luogo di prima accoglienza per la popolazione in caso di calamità, raggiungibile attraverso un percorso sicuro, dove la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento e i primi genere di conforto. Il messaggio fondamentale che quest'iniziativa vuole veicolare è che ogni cittadino informato può ridurre gli effetti dei rischi che sono naturalmente connessi al territorio. L'edizione 2017 di Io Non Rischio sarà un'edizione speciale perché si arricchisce di iniziative legate alla conoscenza dei luoghi e dei rischi realmente presenti sul territorio. La piazza di Ragusa sarà animata da un trekking urbano tra i luoghi della memoria del terremoto del 1693, storicamente il più importante per la città, attraverso un percorso guidato dallo storico locale, il professor Flaccavento, che partendo dal gazebo di Io Non Rischio toccherà alcuni dei luoghi simbolo di quell'evento come il portale di San Giorgio, la chiesa di San Francesco all'Immacolata, il palazzo La Rocca e la chiesa di Sant'Agnese. I cittadini saranno informati attraverso dei pleanne brochure, Io Non Rischio, sulla buone pratiche da seguire in caso di terremoto e maremoto. Saranno anche informati sul piano comunale di protezione civile e su quali sono le aree d'attesa più vicine alla loro abitazione. Grazie a tutti.